E sono 11, Marco Confortola ha scalato il suo 11esimo 8000, i suoi piedi si sono posati sulla vetta del Gasham Room 2, collocata a 8035 metri di quota, un'altra impresa che va ad aggiungersi al suo prestigioso palmarès che è bello rivivere con le immagini in repertorio. Dopo aver affinato le sue doti di scalatore sulle Alpi, le montagne che non ho visto nascere, il fortissimo alpinista della Val Furba ha iniziato la sua caccia agli 8000 in Asia. L'Everest nel 2004, tetto del mondo conquistato per la prima volta da un balterinese. Lo Shisha Pangma nel 2006 assieme a Agnaro Mondinelli. Lo stesso anno la Napurna, temibile montagna dalla quale molti non sono più tornati. Nel 2007 riuscì a superare altre due prove estreme, Choyu e Broad Peak. Nel 2008, il primo agosto, la terribile esperienza sul K2, quel giorno morirono 11 alpinisti. Marco, dopo aver conquistato la montagna degli italiani, si salvò, ma i suoi piedi furono segnati per sempre. Problemi che influirono sulle sue spedizioni successive. Il ritorno in vetta su un 8000 nel 2012, quando con lo Sherpa Pasang riuscì a piantare la piccozza sul Manaslu. Nel 2013, ecco un'altra gemma, il Lozze, scalato il 21 maggio. Nel 2016, il non 8000, il Macalu, raggiunto assieme a Marco Camandona. Nel 2017, eccolo la decima perla, il Daul Aghiri. E ora l'undicesimo capolavoro. L'ascesa verso la cima era iniziata mercoledì sera alle 19 pakistane, quando in Italia era nelle 16. Con lui Ali Durani, alpinista pakistano, che conquistò il K2 nel 2014, lo spagnolo Sergi Mingote. Verso le 3 e mezza hanno raggiunto il tetto del G2. Un sogno di occhi aperti che si è concretizzato. Poi è iniziata la fase, sempre molto delicata, dalla discesa. Marco questa mattina ha oltrepassato il campo 3, collocato a 7.000 metri di quota, e si è diretto verso il campo 1, posizionato a 6.000 metri. Hanno tutti voglia di abbassarsi di quota velocemente, spiega il suo staff su Facebook, per essere già domani al campo base, che si trova a 5.500 metri. E in zona c'è un altro 8000, il G1 Colosso, che il 14 luglio Marco ha scalato fino al campo 2. Una nuova impresa si sta materializzando, lo sapremo nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.